5 settembre 1859 L'onore che i miei concittadini volero conferirmi, nominandomi loro rappresentanti all'Assemblea delle Provincie Parmensi, Milusinga mi rende gratissimo. Se i miei scarsi talenti, i miei studi, l'arte che professo, mi rendono poco atto a questa sorta d'uffizi, valga almeno il grande amore che ho portato e porto a questa nostra nobile ed infelice patria. Inutile dire che io proclamerò in nome dei miei concittadini e mio la caduta della dinastia borbonica, l'annessione al Piemonte, la dittatura dell'illustre italiano Luigi Carlo Farini. Nell'annessione al Piemonte sta la futura grandezza e rigenerazione della patria comune. Chi sente scorrere nelle proprie vene sangue italiano deve volerla fortemente, costantemente.